il b-roll sul frullato pare vi sia piaciuto e in molti mi avete chiesto ulteriori informazioni bene eccoci qua purtroppo per via della situazione in che stiamo vivendo mi è stato impossibile girare un dietro le quinte poi capiamoci non pensavo nemmeno di pubblicarlo quel video quindi figuriamoci registrare delle clip ulteriori per documentare il tutto ma quello che possiamo fare è andare ad aprire insieme il progetto premiere e guardare i passaggi fondamentali del mio workflow generalmente una volta concluso un video tendo a buttare tutte le clip eliminare il parlato e cancellare tutto mantenendo in una piccola cartella solo le clip che veramente mi piacciono ecco mi sono dimenticato di farlo quindi abbiamo ancora tutto possiamo aprirlo bene eccoci dentro devo dire di essere stato abbastanza ordinato tutto sommato su questa timeline forse anche perché è molto corta cosa importante tutto è stato registrato con l'xi tra il 1855 in 1080p a 120 fps in questo tipo di video registrare una clip con molti fps vi tornerà sicuramente utile con 120 fps state comodissimi ma vanno anche molto bene 60 eviterei i 24 sinceramente perché avete poca manovrabilità poi sulla clip finale il brutto della mia macchina è che le clip in forte slow motion tende a rallentarle già di un fattore di 4 o 5 per ed è una cosa molto sbagliata concettualmente il fattore di velocità 100 per cento su premiere dovrebbe corrispondere a una clip a una velocità naturale ecco in questo caso no corrisponde a una clip decelerata già di 5 o 4 per quindi tenete la mente sempre quando vedrete poi successivi passaggi per prima cosa musica ecco questa mi ispirava ovviamente non mi ricordo più nemmeno il nome vi lascio tutti i dati qua sotto è coperta da copyright ma mi frega poco che youtube la trovi e mette i suoi azzo sul video però se siete interessati a creare un video con una musica completamente free vi consiglio epidemic sound che ha una raccolta veramente immensa e un bel sistema di filtri che vi permette di trovare in maniera abbastanza agile quello che state cercando è a pagamento però ne vale veramente tanto la pena ve lo consiglio un attimo di ordine mentale fatto con i colori vi consiglio sempre di mettere un'etichetta di colore alle vostre clip per avere quest'ordine le parti viola sono le clip le parti verdi sono la musica le parti blu invece corrispondono agli effetti sonori e questo rosino sono dei livelli di regolazione per la letterbox e per la color primo tasto utile che vi consiglio m su una traccia audio vi permette di creare un marker in corrispondenza di un cambio del suono di un bit in modo poi che tutte le future clip che andrete a trascinare su questa traccia audio potranno sincronizzarsi perfettamente con questo anchor point cosa comodissima vi consiglio di farlo soprattutto se la canzone è parecchio complicata dove di ascoltarla bene io in questo progetto non li ho usati molto in primo luogo perché la musica è facilmente leggibile anche a orecchio quindi semplicemente ogni volta vi ascoltavo e trascinavo le clip dove volevo in secondo luogo ho dovuto modificare molte volte la traccia audio della musica quindi non volevo essere vincolato da questi anchor point e terzo punto fondamentale è che in un video del genere la musica contasi è fondamentale sceglietela bene ma i suoni hanno un ruolo altrettanto importante e molto spesso per alcune transizioni e passaggi scavalcano l'importanza della musica sentito oppure qui dove la musica letteralmente si abbassa per lasciare spazio al suono dei cubetti di ghiaccio che cadono insomma cercate di rispettare la cadenza del beat ma se non ce la fate non è un dramma il suono giusto al posto giusto può salvarvi coprire l'errore e formare un'altra transizione altrettanto valida anche perché capiamoci generalmente questi video durano uno o due minuti è difficile trovare una musica autoconclusiva in questo lasso di tempo molto spesso ci saranno tagli o vi prendete l'ultima strofa o qualche taglio dovete farlo in particolare il mio progetto il taglio si trova in questo punto dove la prima strofa va via via decrescendo e prende spazio l'ultima parte della canzone abbastanza palese abbastanza netto ma i suoni uniti alle immagini cercano di mascherarlo un po' come adattare una clip per farla combaciare alla lunghezza giusta e sperata della canzone e far corrispondere tutti i tempi doppio clic qui vi permette di ingrandire il livello della singola clip tasto destro sulla clip modifica fotogrammi chiave modifica tempo e velocità da ora in poi con questo strumento potete creare dei punti sulla vostra clip e con lo strumento di selezione tasto rapido vi potete modificare la velocità delle sezioni che si trovano tra questi punti cosa molto comoda e quindi il gioco è questo creiamo dei punti dove la velocità rimarrà fissa e nelle sezioni intermedie all'alziamo e l'abbassiamo a seconda delle esigenze questo è abbastanza evidente nella clip iniziale vi faccio vedere anche il grafico tutto ciò può essere usato sì per modificare la lunghezza della nostra clip andando ad accelerarla o decelerarla ma anche per creare delle vere e proprie transizioni di cambi bruschi di velocità ve lo faccio vedere in questo esempio dove una clip molto lenta cerco di portarla a un livello di velocità di 300 andando quindi a aumentare questo parametro ora la curva da un salto netto quindi questo cambiamento sarà molto brusco cliccando qui possiamo aprire la curva rendere questo cambio molto più morbido e infine cliccando sul punto in mezzo alla curva possiamo rendere gli spigoli molto più smussati ora il cambio di velocità c'è effettivamente ma non è più così brusco ed è molto più smooth ecco questo lavoro lo farai quasi sempre quando andate a modificare la velocità in questo modo all'interno del progetto c'è un massiccio uso di questa tecnica clip che partono piano e poi aumentano la loro velocità per poi passare a clip altrettanto veloci che poi decelerano ecco abbastanza palese ancora una volta sulla prima clip in questa transizione generalmente questo risultato si va a ottenere con una curva di questo tipo per l'appunto parte bassa si alza riprende alta nella clip successiva e si riabbassa nuovamente i valori di velocità tra le due clip devono essere identici beh se il movimento di camera fosse identico allora sì ma dato che molto spesso non lo è dovete giocarvela un po voi con i parametri per rendere il tutto più fluido possibile questi cambi di velocità ci permettono di mascherare molte cose tagli fantasma fuori fuoco e errori vari lo ho utilizzato abbastanza spesso questa clip in cui alzo il coltello e poi taglio la banana in realtà sono due clip staccate però il cambio di velocità e l'accelerata tendono a mascherare un po questo taglio la finestra della clip se rallentate passata frame per frame mostra che la banana era già tagliata ovviamente e questa accelerata tende a nasconderlo poi ovviamente io l'ho montato l'ho girato questo video e la mia testa lo sa che la banana è già tagliata e ogni volta che vedo questa scena me lo dice però per un osservatore esterno magari non è così palese piccola accortezza se registrate a 24 fps generalmente la shutter speed è di un 48 esimo 60 fps un 120 esimo 120 fps dobbiamo andare a un 240 esimo circa cosa comporta un 240 esimo che i singoli frame sono molto molto statici quindi quel piacevole effetto sfocato nei movimenti il blur si va un po a perdere se registriamo a così alti fps ecco quello che ho fatto in bene o male tutte le clip è stato quello di tentare di aggiungerlo in post produzione non è la stessa cosa di registrare a 24 fps ma si può provare un po ovviare il problema quindi con molta parsimonia cerchiamo di applicare questo effetto che è la sfocatura direzionale per prima cosa nidifichiamo la clip e poi applichiamoci questo effetto effetto che deve corrispondere ai movimenti di camera le transizioni ai passaggi darei un valore che parte da zero e in 3 4 frame si porta a valere circa 10 11 12 massimo poi possiamo selezionare la direzione a seconda appunto del movimento della nostra camera l'ho fatto praticamente in tutte le clip dove c'è un movimento netto e l'esempio è questo clip senza blur clip con il blur e il tutto mi sembra leggermente più piacevole in questo modo bene poiché altro un livello di regolazione generale per la color le bande nere e micro regolazioni selettive sul colore delle singole clip ecco in questa parte non vorrei soffermarmi molto altrimenti diventerebbe un tutorial se volete una spiegazione per quanto riguarda la color ci dedichiamo un video a parte un capitolo a parte ultima curiosità che mi sembra utile è qualche overlay video in questo caso abbiamo semplicemente un overlay di flare giallo che ci permette di rendere questa transizione più carina in quest'altro punto ci sono delle particelle bianche con opacità molto molto bassa per renderle quasi impercettibili che davano quel tocco in più alla clip stessa cosa succede in quest'altra parte sul taglio della banana dove grazie a una maschera queste particelle si portano ad essere solamente nella parte superiore della banana e ovviamente è un effetto finto non esisterebbero mai delle particelle del genere ma dato che la clip è veloce vengono percepite semplicemente come uno schizzo giallo che nel contesto può anche starci bene abbiamo detto quasi tutto l'ultima componente è quella degli effetti sonori che sono assolutamente fondamentali in un broll di questo tipo mi sono appoggiato molto ad epidemic sound e ad audio micro che sono entrambi ad abbonamento ma ci sono tante librerie gratuite da questo punto di vista è molto piacevole fare questa parte a mio avviso questo suono che da quello che dice epidemic sound è una spada l'ho utilizzato nel punto in cui viene sollevato il coltello perché il suono che avevo registrato io fatto tra l'altro con questo tasca ma non mi piaceva troppo la cosa bella è che potete associare ad oggetti dei suoni che concretamente non c'entrano troppo con quell'oggetto ma che nel contesto del montaggio risultano essere efficaci il suono di un coltello ci stava poco era molto più efficace di impatto il suono di una spada e questo può essere applicato praticamente su tutto molti altri suoni invece come ho già detto sono stati registrati con questo registratore esterno vi lascio la scheda della recensione qua sopra se potete registrare il suono per conto vostro nel caso non lo trovaste nel caso fosse particolarmente complicato o nel caso aveste tempo e quindi man mano fate i vari passaggi potete anche starli a registrarli vi risparmiate un po di lavoro e avete già tutto pronto fatto per conto vostro comodo anche questo vi faccio sentire una parte del video solamente col sound design ecco capite bene che è una componente importante anzi importantissima quanti suoni mettere quando sono troppi quando sono troppo pochi il mio consiglio è di fare proprio così disattivare la traccia della musica per un attimo e sentire il vostro progetto solamente con i suoni se questo è gradevole anche semplicemente col sound design probabilmente avete raggiunto un buon livello quando ci sono dei forti buchi delle dei pezzi in cui proprio manca completamente il suono ecco che dovete cercare di sforzarvi di trovare qualcosa da inserire e in quest'ottica appunto registratori esterni e suoni fatti da voi sono veramente comodi perché è difficile andare a trovare il suono che si abbini a delle sezioni di video che non sono caratterizzate da nulla di troppo particolare molto più facile tenere acceso da una cosa del genere e registrare tutti i suoni che state producendo man mano fate appunto i passaggi del vostro video in ogni caso ne ho messi tanti forse anche esagerando per provare ma il risultato finale mi piace molto a piccolo appunto sui suoni entrate nella sezione audio di premiere e gestite tutto da lì perché è molto più semplice è molto più comodo e cercate di sforzarvi di capire qualcosa di equalizzatore compressore altri strumenti simili non serve a scendere nel dettaglio non dovete editare un parlato ma semplicemente cercare magari di modificare un suono che è quasi perfetto ma ci manca qualcosina e se avete questa conoscenza e competenza riuscite a sistemarlo bene con questo abbiamo concluso manca ovviamente la grossissima parte del come ho registrato vi ho detto che l'ho fatto a mano libera però senza un dietro le quinte efficace posso mostrarvi veramente molto poco potrebbe essere il soggetto di un video fatto ad hoc magari in futuro spero che tutto questo sia stato utile e informativo io ho imparato veramente molto da video di questo tipo che non sul tutorial ma semplicemente una rapida vista su un progetto su un modo di lavorare su un workflow cercando di apprendere tecniche che utilizzano degli altri e tutte queste tecniche non le sapevo quando ho iniziato utilizzare premiere le ho prese da youtube e ora mettendole in pratica mi rendo conto che mi semplificano molto il lavoro faccio tutto molto più in fretta e il risultato seppur imperfetto molto imperfetto probabilmente mi piace bene fatemi sapere cosa ne pensate del video se ci sono altri dubbi e informazioni io sono qui anche se adesso vado a cancellare il progetto perché non mi piace tenere tutti quei giga sul computer quindi non lo potrò mai più riaprire probabilmente che non mi piace